Buonasera mister, una partita complicata, un avversario deciso, in un momento anche un po' forse complicato per l'Inter, ma la squadra le ha dato una risposta importantissima. Assolutamente sì, perché è una partita difficile, in due giorni e mezzo dopo una partita come mercoledì contro una squadra intensa come Bayern Monaco era difficile organizzarla, però siamo stati molto bravi, compatti, la squadra quando era il momento ha sofferto tutti insieme, per un allenatore una partita del genere fa molto molto piacere. Inter che ha curato anche molto bene la fase difensiva perché la porta è rimasta inviolata. Sì, sono stati bravi, abbiamo lavorato di squadra come dobbiamo fare perché quando è sempre la squadra al primo posto, quando non si fa gol non è colpa degli attaccanti, quando lo si prende non è colpa dei difensori, tutta la squadra che deve girare e stasera abbiamo avuto una determinazione, una compattezza che la volevamo a tutti i costi. Ci stiamo abituando anche a un Marcello Brozovic in versione gole a Dora, nei momenti complicati trascina sempre la squadra. Sì, è stato fatto un gol importantissimo ma ha fatto una prova molto molto buona con i suoi compagni, centrocampo bene, gli attaccanti, i difensori. Sono molto soddisfatto perché il primo tempo probabilmente siamo stati un po' contratti ma anche in merito del Torino che non ci ha mai fatto alzare la testa sul pallone con delle pressioni molto molto forti.